Reduce dalle belle vittorie contro Matera e Monopoli, le Catania torna finalmente al Massimino per affrontare domani alle 14.30 l'Ischia e tentare di conquistare altri tre punti che servirebbero ad annullare la penalizzazione in classifica. Un traguardo che sarebbe non di poco conto se si pensa che la squadra è stata assemblata in pochi giorni e non ha ancora raggiunto una preparazione atletica adeguata. Pancaro dovrebbe puntare ancora una volta sul modulo 4-3-3 con Liverani tra i pali, Ferrari e Pelagatti centrali di difesa ma non è escluso l'impiego di Bacchetti, Garufo e Nunzella esterni con Parisi pronta a giocarsi le sue chance fino all'ultimo con il primo. Solito ballottaggio, Agazzi, Musacci con Scarsella e Castiglia completare la linea della mediana. In avanti il rientrante Russotto agirà accanto a Calille ed uno tra Falcone, Calderini e Di Grazia. Ancora out plasmati al quale servirà tempo per raggiungere un livello di forma accettabile.